È il momento di rispettare le regole. C'è un provvedimento che impedisce di passare da una zona all'altra, in questo caso dalla provincia di Pesaro Urbino a quella di Ancona, tranne che per motivi di lavoro. Ecco, io chiedo a tutti di rispettare queste regole. Cerchiamo di impedire al virus di contaminare e di propagarsi. Lo possiamo fare solo se ognuno di noi con piccoli precetti e con grande attenzione rispetta tutte le regole che in questo momento ci sono, che sono molto semplici. C'è il divieto di venire nella provincia di Ancona, non bisogna venirci, nemmeno per attività commerciali né per trovare amici. Dobbiamo rimanere dentro i percorsi che sono stati individuati. È un appello che faccio a tutti e vi chiedo di rispettarlo perché così si impedisce al virus di propagarsi, così si salvano le vite.